La nostra azienda è stata fondata nel 1959 ed è stata fondata dal nostro padre che era un ex mezzadro, un contadino, che aveva la passione delle macchine agricole. Il mio primo ricordo al lavoro con una macchina, con una macchina agricola, circa all'età di 12 anni, che lavoravo il terreno, facevo l'aratura per dei mezzadri del posto con un trattore agricolo. I primi 20 anni della nostra attività sono stati piuttosto difficili, in quanto si svolgevano in un periodo in cui il sistema economico era molto complicato. Si lavorava e non si riscuoteva, non si incassava. E quindi questo ci creava molti problemi da un punto di vista economico con grosse difficoltà e che si suppliva con tanto lavoro, ore lavorative. Col tempo queste esperienze ci hanno fortificato molto. Nel 1959 mio nonno fu molto ingegnoso perché comprò il primo retroescavatore da utilizzare nel comune di Radda. Ci piacciono le macchine taci perché hanno delle caratteristiche fondamentali per noi. In modo particolare le lavorazioni sono molto veloci e soprattutto precise. Inoltre il nostro rapporto si è consolidato in tutti questi anni con la concessionaria, ci fa sentire tranquilli per qualsiasi emergenza che abbiamo bisogno. Da oltre 50 anni noi ogni 4-5 anni compriamo una macchina diversa, di una marca diversa per confrontarla con le taci. Fino ad oggi le taci è risultate la migliore. Le macchine taci soprattutto sono affidabili, non solo. Noi in questi ultimi 30 anni, a dimostrazione del loro miglioramento dell'affidabilità, prima si cambiava una macchina ogni 3 anni. Oggi noi facciamo un cambio di una macchina e taci ogni 5 anni. Lavoriamo in Toscana dove ci sono aziende, tra le più importanti nel panorama viticolo italiano, che ci chiedono vigneti che siano ottimi per la produzione del vino, per il vino di qualità e anche belli da vedere, che rispettino l'ambiente perché comunque la Toscana è una regione molto turistica e quindi ci viene chiesto sia qualità a livello produttivo che anche bellezza paesaggistica. Col tempo, grazie al lavoro di tutti quanti in Agrichianti, siamo riusciti a comprare dei terreni per noi, a costruire la nostra azienda vinicola e a goderci di questo nostro prodotto. E' di grande soddisfazione quando vado in giro per la Toscana e vedo i lavori che abbiamo fatto noi con le macchine taci e abbiamo trasformato il paesaggio di questa zona, migliorandolo da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Io credo che oggi la nostra azienda è bella, è molto bella, perché c'è stata tanta passione, sacrifici, sforzi, soprattutto dal mio padre che era un uomo molto povero e quindi si è voluto realizzare, ha voluto far crescere i propri figli. L'augurio più bello è che i nostri figli continuino. Grazie a tutti.